Quindi li porto bene gli anni che ho. No, in realtà questa foto è stata scattata nel 1916 a Parigi, non è photoshopata. E adesso ho cominciato a chiedervi, ma come è possibile? Non c'è trucco, non c'è inganno, la foto è reale. E ve la lascio lì, lascio questo dubbio che comincia a serpeggiare nella vostra mente. Che cosa faccio di mestiere? Ho organizzato insieme a una collega, Elena Albertini, una bufalopedia, ossia una specie di wikipedia dove puoi andare a cercare le informazioni sulle bufale più frequenti, conoscere anche i trucchi del mestiere e i siti di riferimento. Insieme alla presidenza della Camera dei Deputati ho fatto un progetto che si chiama bastabufale.it per cercare di sensibilizzare all'importanza delle bufale, perché le bufale sembrano delle cose frivole, in realtà sono dei problemi molto seri, perché se ci danno disinformazione su temi delicatissimi come la salute, l'ambiente, allora possono causare dei danni estremamente potenti. Insieme al MIUR ho lavorato per FIEG, Facebook, Google, quindi i grandi nomi della comunicazione online e tanti altri, abbiamo creato un piccolo decalogo che adesso sta circolando nelle scuole e una mini guida che racconta come muoversi in questo mondo particolare. Qui vedete che ci sono solo otto punti perché gli altri due li faranno gli studenti, quindi c'è questa voglia di interagire, di conoscere meglio questo ambiente. E cominciamo a conoscerlo. Le fake news per molti sono un fenomeno di internet, ed è vero solo in parte. Per esempio, quando qualcuno ci mostra un'immagine come questa, viene da dire ecco, sì, queste sono le immagini classiche che girano, il problema dell'immigrazione, questa gente che non fa niente dalla mattina alla sera e ci sono Nina Moric e Luca Bottura che condividono queste fotografie scandalose di questi fanulloni che stanno lì. E chi sono questi fanulloni? Bisogna fermarsi un momento e scoprire che in realtà sono Magic Johnson, il cestista, il giocatore di basket, e l'attore Samuel L. Jackson, Mace Windu in Star Wars per gli appassionati. Quindi non sono due persone qualsiasi, è gente che potrebbe comperarsi Prada, altro che la borsa di Prada, con i 35 euro, e di certo non ha bisogno dei 35 euro famosi di questa polemica sull'immigrazione e i finanziamenti dell'immigrazione. Oppure prendiamo un altro caso, questa è una fotografia che è girata tantissimo sui giornali e soprattutto online, questa è una foto che mostra l'attenzione dedicata al mondo a Putin. E ci sono tutti i grandi del mondo che lo guardano, è quasi una composizione pittorica questa fotografia, molto bella, molto elegante. C'è un dettagliuzzo che però tradisce. Se non guardiamo questa immagine su uno schermo ad alta risoluzione, se la ingrandiamo, ci accorgiamo che c'è una manipolazione, ma se la vediamo sullo schermo di un telefonino non ce ne accorgiamo assolutamente. Infatti l'originale è questo. Oh, scusate, è sparita, eccola qua. L'originale è quello che vedete in basso, quindi in realtà Putin è stato aggiunto dopo e ce ne accorgeremo per una ragione molto particolare, perché il povero politico che gli sta dietro avrebbe la sua testa dentro quella di Putin. Un gesto che forse molti di noi in questo momento vorrebbero fare, almeno simbolicamente, ma in questo caso l'impenetrabilità dei corpi nega questa possibilità. Quindi è un fotomontaggio, viene fatto però circolare come se fosse vero per glorificare il leader della Russia. Quindi online esce di tutto e non abbiamo spesso gli strumenti di comprensione, di interpretazione che ci permettono di distinguere fra una foto vera e una foto falsa, un'immagine vera e un'immagine fantasiosa. Ma non è solo un problema di noi utenti. Anche i giornalisti possono essere vittime delle bufale. Vi prendo un esempio di una notizia che esce su un giornale, il Corriere della Sera, che di solito fa un buon lavoro, è pieno di giornalisti bravi, però ogni tanto qualcuno, come dire, scivola. Questo è il pilota Patrick. Il fascino dei selfie in quota con la testa fuori dall'aereo. Ora, o siete tutti esperti di aeronautica, meccanica dei fluidi, oppure avete capito che sporgersi dal finestrino di un aereo che vola 800 km l'ora forse non è tanto salutare, perlomeno la cravatta si dovrebbe scompigliare. Eppure il giornalista del Corriere non si è posto questo problema. Ha pubblicato la notizia, ovviamente gli siamo saltati in testa a tutti dicendo no, non è possibile, e la notizia è stata rimossa. Però è uscita sul Corriere. Questo è un indicatore del fatto che in alcune redazioni c'è un problema di processo e di gestione delle notizie. Quindi non è soltanto la bufala che possiamo mettere in giro così, fra amici. Questa esce su un giornale molto molto diffuso. Ma non serve neanche essere esperti di aeronautica. Basterebbe semplicemente guardare la fotografia, perché se ingrandiamo il pilota Patrick, in particolare il suo volto, ci accorgiamo che ha il riflesso della pista negli occhiali. Che ci spiega il trucco? Patrick è un vero pilota, ha un selfie stick, quando è a terra si fa la foto con il selfie stick sporgendosi dal finestrino. Dopodiché con Photoshop aggiunge il cielo. Fine della storia. Eppure qualcuno, questo giornalista, non si è posto questo dubbio di dire ma è credibile questa notizia. Ed è così che nascono le fake news, le bufale. Fra l'altro io faccio un mestiere che ha un nome molto strano, si chiama debunker. Ma perché debunker? Da dove viene? Beh, ho un pochino di storia, giusto per fare un passo indietro nel tempo. Debunker in realtà significa, bunk in inglese vuol dire fandonia, falsità. To debunker significa togliere la falsità. Quindi è una scrematura. E in questo senso il mestiere mio e di tanti altri colleghi che fanno debunking non è quello di presentarsi come portatori di verità, ma semplicemente di scrematori del falso. Se io mi propongo come portatore di verità, sto facendo un mestiere che non è il mio, ma se vi dico, guardate, questi sono gli strumenti che si possono usare per capire se qualcuno ti sta prendendo in giro. Allora quello funziona e quello diventa debunking. Come vedete è un mestiere piuttosto antico. Queste sono riviste che risalgono agli anni 30, agli anni 20, agli anni 30, e già si chiamava debunking. Si parlava già del fumo, delle pericolosità nascoste, delle sigarette e via dicendo. Ci sono delle differenze fra la bufala e le fake news. Proprio se vogliamo fare i classificatori possiamo dire che entrambe sono informazioni false. Però se è diffusa consapevolmente, cioè sapendo di mentire, sapendo di ingannare, allora è una fake news. Se invece c'è qualcuno che diffonde una storia credendoci veramente, allora è una bufala. È una classificazione un po' arbitraria, in realtà molto spesso questi due mondi si incrociano, si incontrano, si intersecano, nascono da questo rapporto dei mostri terribili. Però il concetto di fondo è quello. In comune hanno l'impatto emotivo e sociale. Sono storie false che possono cambiare la società. Non sono scherzi, non sono burle. Possono causare dei danni estremamente forti. Perché rinforzano i nostri pregiudizi. Li abbiamo tutti. Io e i miei, voi avete i vostri. Ciascuno di noi ha una visione del mondo. Quando una storia conferma quella visione del mondo, tendiamo a credere che sia autentica. E questo è uno dei motivi per cui le fake news prosperano. Perché toccano quei sentimenti, quelle paure, quei pregiudizi, che magari sono politicamente scorretti da presentare così come sono. Ma se li racconto attraverso un'immagine, attraverso una storia, allora diventano presentabili. L'altra caratteristica delle fake news e delle bufale è questa propagabilità. Il termine tecnico è spreadability. Cioè hanno la capacità, hanno qualche cosa che fa venire voglia di condividerle. Sono delle belle storie. Sono delle storie che raccontano qualche cosa che ci tocca nelle emozioni. E quindi si parla di questo genere di classificazione. Gli esempi classici di fake news. Ne abbiamo sentito parlare. Il fenomeno è esploso mediaticamente con la campagna per la Brexit nel Regno Unito. Io come mezzo cittadino inglese, non so quale metà sia quella inglese, ma comunque metà sono inglese, mi sono sentito molto coinvolto in questa storia e ho cominciato a indagare e seguire questa strana forma di suicidio rallentatore di un paese. Risultato, c'era questa fotografia, questo autobus che ha girato buona parte del Regno Unito con questo slogan molto forte che dice che ci sono, noi inglesi mandiamo 350 milioni di sterline a settimana all'Unione Europea e invece teniamoci lì e finanziamo la sanità nazionale, che posso dirvi, avendo abitato lì, ha disperatamente bisogno di soldi. Ma in realtà non è così. Nonostante questo sia stato scritto sulla fiancata dell'autobus per la campagna pro-Brexit, in realtà la cifra è più o meno la metà. Non solo buona parte dei soldi che vengono versati dal Regno Unito all'Unione Europea sono controbilanciati da quelli che l'Unione Europea dà al Regno Unito per altri progetti, ma fa niente, è uno slogan che funziona, perché fa leva su quei pregiudizi, è un concetto semplice, è spreadable, è propagabile. Sapete tutti com'è andata, ha vinto il partito, il movimento per l'uscita dell'Unione Europea, il giorno stesso dei risultati, appena dopo l'annuncio dei risultati definitivi del voto, Nigel Farage, che era il leader del UKIP, il partito britannico più nazionalista e più indipendentista di tutti, viene fuori dicendo, eh sì, lo sapevamo che era sbagliato il dato, però adesso è tardi. Quindi qui siamo nel campo delle fake news, cioè qualcuno che ha consapevolmente diffuso una notizia falsa per un tornaconto personale. E questo è un fenomeno diffusissimo. Un altro esempio molto conosciuto, molto classico, è quello di Milo Yannopoulos. Milo Yannopoulos forse non è un nome che ricorda, non è un nome che evoca molti ricordi rapidi, ma è un giornalista che ha scritto per Breitbart. Breitbart è uno dei siti di riferimento del presidente Trump. Su Breitbart e sul sito di Yannopoulos esce questa notizia, secondo la quale le luci di Natale sono state bandite in Svezia per non far arrabbiare i rifugiati musulmani. La notizia è falsa, ma viene condivisa tantissimo su Facebook, generando 43.000 reazioni. Poi finalmente, a distanza di qualche giorno, arriva la verifica dei fatti. Un collega debunker, snops.com, spiega, no, abbiamo chiamato le autorità svedesi e ci hanno spiegato che non c'entra niente, non c'è nessuna richiesta da parte dei rifugiati, semplicemente la gente si stava facendo male a fuori di caricare i lampioni di lampade e decorazioni di Natale, abbiamo detto calmi tutti, vietiamole, ciascuno le faccia a casa propria, nel proprio giardino, ma non sulla strada pubblica. Fa niente, ormai la storia si è radicata, per cui molti credono che questa storia sia autentica. La cosa curiosa è che, questa è la classica propaganda ideologica, quindi chi ha un'ideologia di tipo razzista, crede a questa notizia, la propaga, e quindi da qui vediamo il numero di condivisioni molto elevate su Facebook. Però allo stesso tempo questa notizia viene pubblicata su siti che contengono pubblicità. Se una notizia viene letta da tante persone, quella pubblicità genera tanti incassi per il sito, e quindi insieme alla propaganda c'è il profitto. E questa è la grande novità delle fake news di oggi. Ci sono siti che vivono di notizie false. La notizia falsa non è più solo una questione di propaganda, ma è un vero e proprio modello imprenditoriale. Prendiamo per esempio Infowars. Questo non è uno scherzo, non è un fotomontaggio. Su Infowars, che è uno dei siti più popolari degli Stati Uniti nell'area cospirazionista, hanno le prove che le rane gay sono una realtà. Il leader, l'organizzatore, il capo di questo sito, si chiama Alex Jones, questo simpatico personaggio dall'area, assolutamente rassicurante, dice che c'è un progetto del governo americano per irrorare attraverso varie sostanze diffuse nell'acqua e nell'aria delle cose che fanno diventare omosessuali le persone. Perché? Non si sa. Che problema gli faccia? Non si sa. Ma a lui fa un problema. E risultato che ha lanciato questa campagna contro le rane gay. Ovviamente sul sito, come vedete, ci sono le pubblicità delle pastiglie che risolvono i problemi. Hai la scia chimica che ti dà fastidio? Compra questa pastiglia che contiene l'antidoto. E via dicendo. Beh, è un eccentrico, è uno di tanti pazzi che ci sono su internet. No, questo è un pazzo un po' particolare. Innanzitutto ha un impero economico. Guadagna le cifre elevatissime, ma soprattutto ha l'orecchio di un certo personaggio che tutti conoscete. Questa è un'intervista fatta prima dell'insediamento alla Casa Bianca di Alex Jones a Donald Trump. Quello che scrive Alex Jones, quei deliri sulle rane gay, vengono letti dal Presidente degli Stati Uniti. E questo francamente mi sembra un po' preoccupante, anche perché dalle rane gay si passa a affermazioni come quella sul riscaldamento globale o sul cambiamento climatico. Donald Trump non crede al cambiamento climatico, è una fandoni inventata dai cinesi per affossare l'economia americana. E lo dice più volte, come vedete, in questi campioni. Qui siamo nel vero territorio della fake news. Ma da dove vengono queste idee alternative? Abbiamo in fin dei conti una quantità di dati scientifici che dimostrano, se possiamo essere in dubbio, sull'origine umana, antropica del fenomeno. Ok, ma sul fatto che ci sia un aumento dell'energia nell'atmosfera, che ci sia un riscaldamento globale, ormai non ci sono significativi dubbi. Da dove vengono storie come queste? Vengono da alcuni giornali, alcuni siti che non hanno fatto un po' di scienza. Come per esempio Repubblica, non mi piace fare nomi, ma in questo caso mi tocca farlo. Repubblica pubblica questa fotografia che ritrae, siamo nel gennaio del 2010, un fenomeno straordinario. Nel lago Huron in Michigan fa talmente freddo che le onde si ghiacciano a mezz'aria. E già così, ok, bizzarra come notizia, però immaginate di essere un negazionista del riscaldamento globale. Apri il giornale, vedi Repubblica che ti dice, guarda, fa talmente freddo che ghiacciano le onde a mezz'aria, non ti fai due calcoli di fisica per dire no, momento, conservazione, calore, non ce la puoi fare. Guarda, dice, vedi? Tutta questa storia del riscaldamento globale, ma se lì fa talmente freddo che ghiacciano le onde. Quando io ho segnalato la falsità di questa notizia a Repubblica, non ne ho ricevuto un trattamento particolarmente felice. Eppure io avevo le foto originali, come quelle che vedete qui, che mostravano il fatto che c'erano delle non onde ghiacciate, ecco vediamo se ne troviamo un'altra, eccola qua. Non erano onde ghiacciate, queste erano foto fatte in Antartide con le spaccature del ghiaccio. Non c'entrano niente le onde, non c'entrano niente il lago Uro, non c'entrano niente il Michigan, non c'entrano niente il riscaldamento globale. Quindi in realtà giornali come questi stanno pubblicando delle notizie palesemente errate senza fare un minimo controllo. Quindi quando si parla di fake news non è soltanto un fenomeno online, anzi è un fenomeno giornalistico. Qualcuno ricorderà questa storia, bonsai kitten. Se qualcuno è su internet da un po' di anni saprà che bonsai kitten è questo sito dove si allevano gattini in bottiglia. Gattini in bottiglia che come dice Iosto Maffeo sul Messaggero, e poi non solo c'è anche Repubblica, dice che questi gattini vengono allevati dentro le bottiglie, crescono, vengono deformati dalla bottiglia, poi dopo indicibili sofferenze muoiono, ma fa niente, è un business, si prende il nuovo gattino bonsai. Notizia abbastanza poco credibile, infatti è falsa, non vi preoccupate, se siete gattofili prendete un respiro. Ma la notizia prospera finisce ripetutamente sui giornali, esce ad opera del Messaggero, esce su Repubblica. Abbiamo anche mandato ai giornalisti in questione un esempio, no, guarda che sono fotomontaggi questi gattini in bottiglia, non esistono, guarda c'è anche il giornalista in bottiglia, eppure niente da fare. Quindi c'è un problema di giornalismo, ci sono tanti giornalisti che lavorano in maniera eccezionale, ma molte delle notizie che vengono pubblicate sui giornali hanno questa pecca fondamentale di essere mal gestite. Perché vengono mal gestite? Perché ci sono tante motivazioni, adesso ne vediamo alcune passando dai giornali a internet. La prima l'abbiamo già vista, quella del profitto. Queste sono due dichiarazioni attribuite, anzi una è una citazione di Roberto, fatta da Roberto Maroni su Facebook, che attribuisce queste parole a Renzi, italiani troppo legati ai soldi, nella vita ci sono altre priorità, che è una di quelle cose che alla fine del mese dà proprio fastidio, non deve sentire dire. Dall'altra abbiamo gentiloni sciocchi, gli italiani imparino a fare sacrifici e la smettono di lamentarsi. Anche questa, simpatica come dichiarazione, false, tutte e due, sono inventate da, non dal giornale, ma da un sito che si chiama il Corriere del Corsaro. C'è scritto in basso, in piccola, a sinistra, in grigio, ma soprattutto su questi schermi non lo vedrete mai. Eppure questo è il modo in cui Facebook confeziona le notizie. Chi ha fatto queste notizie? Chi le ha pubblicate? Beh, insieme a un collega, David Puente, abbiamo fatto un'indagine tecnica, perché la cosa interessante è che internet propaga un po' di fake news, vero, ma allo stesso tempo è anche l'antidoto per le fake news, se sai come usarla, se chiede agli esperti. David Puente è particolarmente esperto in questo settore, si accode di una cosa, questi siti che in realtà sono separati, appunto da una parte abbiamo Corriere del Corsaro, dall'altra abbiamo Libero Giornale, che non sono testate giornalistiche, non sono i giornali di cui i nomi scimmiottano. Entrambi questi siti e tanti altri avevano nelle loro pagine web lo stesso codice pubblicitario. Questo vuol dire che hanno un unico padrone. Allora si fa una ricerca su internet e si dice, allora fammi vedere quali sono i siti che hanno lo stesso codice pubblicitario. E salta fuori che c'è una vera e propria galassia di siti, tutti collegati, scusate, tutti collegati allo stesso editore, si chiama Edinet, sta in Bulgaria, è gestito da un italiano, che ha deciso di fare delle fake news, un'industria, con un piccolo gruppo di persone, fabbrica dichiarazioni assurde, messe in bocca a politici, celebrità e via dicendo che la gente ci clicca sopra, le gente le condivide sui social network, generando traffico per i siti e in questo modo, grazie alla pubblicità presente in questi siti, lui incassa. Questo è il motivo per cui esistono le fake news per profitto. E in alcuni casi sono fatte intenzionalmente, con un chiaro intento di ingannare chi le legge. Per esempio facciamo un piccolo quiz, guardiamo quest'immagine, qui abbiamo Trump in lacrime, mi dimetto, non voglio fare precedente, svolta shock in America. Ok, sappiamo che è falsa. Dall'altra parte abbiamo Putin, se l'Isis si avvicina all'Italia siamo pronti a sganciare l'atomica. Dove non ho capito? Spero non da queste parti, comunque vabbè, lasciamo stare. La cosa interessante è che le immagini sono talmente forti, il nostro cervello tende a elaborare prima i contenuti visivi, poi il testo. Il risultato è che noi guardiamo le immagini che sono forti, campeggiano in queste notizie. Poi guardiamo il titolo, ma l'ultima cosa, che in realtà è quella più importante, è la fonte. La fonte è indicata là in alto e quelli che hanno 10 decimi stanno dicendo, ma Paolo hai sbagliato perché lì c'è scritto il fatto quotidiano. Ve ne siete accorti? Non è il fatto quotidiano, è il fatto quotidiano. Qualcuno ha registrato il sito, il fatto quotidiano, in modo da far cadere in errore le persone. Dall'altra parte abbiamo ilgiomale.it, non è ilgiornale.it. Quindi esiste una vera e propria fabbrica di fandoglie, intenzionale. È chiaro che di fronte a questo desiderio, a questa intenzione di ingannare, non si può dire ma no, non sappiamo se sono vere o non sono false. Sono chiaramente bufale fatte intenzionalmente, quindi sono fake news. Ma c'è anche un altro motore. Questa pubblicità sulla quale noi clicchiamo, che ci bombarda attraverso i nostri telefonini, attraverso i nostri tablet, i nostri computer, genera introiti anche per le testate tradizionali. I siti dei grandi giornali online vivono di questa cosa. E questa cosa in gergo ha un nome particolare, si chiama clickbait. Cioè ti faccio un articolo sul quale ti viene voglia di cliccare. È un'esca per i click. Se clicchi, io ti bombardo di pubblicità, ti faccio un po' di tracciamento che fa sempre comodo, lo sapete, grazie anche a Cambridge Analytica e Facebook, ormai se ne è sentito parlare anche troppo. Il risultato è che tutti i giornali si sono buttati a pesce su questa cosa del clickbait. Se guardate in giro e vedete questi titoli di giornale che dicono non immaginerete mai cosa è successo quando lei, e poi non dico, quando lei cosa? E clicca per saperlo. Clicchi, bombardamento pubblicitario. Giusto per dirvi quanto è diffusa questa cosa, recentemente ho fatto inorridire una collega del Corriere alla sera dicendo, guarda, questo è quello che twitta il Corriere. Lato B mostra i panorami mozzafiato. Ok, non ho capito se il panorama che mozza il fiato è il lato B, ma lasciamo perdere. Eccoci che exploits l'ultima tendenza sui puntini di sospensione. Clicca per saperne di più. Se clicchi vai a vedere la notizia e verrai bombardato di pubblicità. Dall'altra parte, sempre il Corriere alla sera, invia questa foto al marito e lui chiede subito il divorzio. Che cosa le è sfuggito? Non è la settimana enigmistica, questo è il Corriere alla sera. Eppure questo è il tipo di notizia, che poi saranno anche fatti i suoi, cioè che notizia, ma fa niente. È una notizia cliccabile, è un clickbait. Uno dei casi più belli, secondo me è questa, come aprire lo sportello di un furgoncino in 30 secondi con un utensile da 18 euro. Ora, a chi serve questa notizia di grazia? Così, per curiosità, no? Cioè, non so, gli italiani sono un popolo di furgonisti smemorati, dicono, ho lasciato a casa le chiavi, come faccio? Ah, ma ho letto sul Corriere che si può aprire con un... vai a comprare questo oggetto da 18 euro. Alcune di queste notizie sono state ritirate, dopo che le abbiamo denunciate, perché insomma era assolutamente inammissibile. Ma non è l'unico fenomeno, cioè non c'è solo il clickbait. C'è anche quello che io chiamo l'algoritmo social. Facebook in particolare seleziona le notizie in base all'importanza che diamo a queste notizie. Quindi siamo noi a decidere che cosa finisce in prima pagina nelle nostre baccheche su Facebook. Siamo noi i nostri amici. Più una notizia è condivisa fra i nostri amici, più sale in alto nelle nostre baccheche. Il risultato è che Facebook sta controllando le notizie, sta manipolando il mercato delle notizie. Quello che succede per esempio è che negli Stati Uniti abbiamo che la notizia più diffusa sull'influenza di quest'anno è stata che il vaccino influenzale causerebbe l'influenza. E questa è una confessione di un medico, di uno degli enti più importanti per la difesa contro le malattie, il CDC. Non è vero o niente, è tutta un'invenzione. Yournewswire.com è un sito di notizie false, quindi ora che lo sapete, sapete che quando lo vedete lì è una notizia fasulla. Questa notizia è stata condivisa grazie a Facebook 810.000 volte, che è più di tutte le altre notizie sul tema della salute, dell'influenza, pubblicata dal New York Times e dal Washington Post. Quindi la potenza di fuoco di Facebook e dei siti di fake news batte quella dei giornali tradizionali. Abbiamo un grosso problema. Facebook a mio avviso è anche colpevole, per così dire, di una manipolazione di un altro tipo. Riconfeziona le notizie. Tutti i siti dei giornali hanno un loro stile, una loro grafica, una loro impaginazione, che ci permette anche di capire, di riconoscere l'origine di una notizia. Facebook appiattisce tutto. Queste sono due notizie, entrambe prese da due fonti, entrambe riconfezionate, ma prese da due fonti completamente differenti, nel modo in cui le presenta Facebook. Una è reale, quella di sinistra, che dice che c'è questo allarme ghiaccio per la notte ed è arriva dal Corriere della Sera. L'altra invece è una notizia falsa, è un fotomontaggio che arriva da un sito che non c'entra assolutamente nulla, ma hanno entrambe lo stesso aspetto. Come faccio se non prendo l'abitudine, nello schermo del mio telefonino, di guardare in basso a sinistra, in grigio, perché è scritto anche in piccolo, quindi fai anche fatica, come se volessero nascondere questa cosa. Se non prendo questa abitudine non so da dove viene la notizia. Quindi ho bisogno che queste cose cambino per essere più facilitato nel verificare le notizie. Questa è una cosa che è stata richiesta ripetutamente a Facebook, facci capire meglio da dove vengono le notizie. Qualcosa negli Stati Uniti in questo senso si sta muovendo. Quindi per rilacciarmi al vostro tema della speranza sì, c'è speranza. Però bisogna lavorare anche nelle redazioni. Non è accettabile che Rai o Il Tempo pubblicano la notizia che Trump vuole rimuovere la Stato della Libertà da New York perché l'hanno letta su un sito satirico e non hanno capito che era satira. Purtroppo queste cose succedono. Ma poi ci sono delle bufale, delle fake news che sono molto più gravi di queste. Cioè se alla fine Trump dovesse, per ipotesi, volessi portarvi la Stato della Libertà, sostituirla con una replica di Ivanka, ok, problema suo, non cambia granché, deturpa forse un po' l'immagine iconica di New York, però fa niente. Ci sono invece delle fake news che sono molto più preoccupanti, che sono quelle che lavorano sui nostri pregiudizi. Per esempio questa è una storia che mi ha inquietato parecchio, che ha un finale un po' particolare. Questa è una fotografia fatta durante uno degli attentati avvenuti a Londra a marzo del 2017, come vedete c'è una persona riversa per terra, ci sono i primi soccorritori e in fianco passa questa donna con il fulare in testa, che ha il telefonino in mano. E la reazione online è questa, per cui prendiamo Texas Long Star, un utente americano, che dice donna musulmana indifferente all'attacco terroristico, passeggia, se ne passa disinvolta mentre c'è un uomo morente riverso per terra. E la foto ha fatto il giro del mondo, popolarissima, enorme numero di condivisioni. Io ho chiamato il fotografo, usando gli strumenti di internet sono riuscito a risalire al fotografo e gli ho detto senti ma fammi indovinare, ci sono altre foto di queste sequenze, perché i fotografi ormai scattano a raffica. Mi fa certo, dimmi se per caso ce ne è una che mostra la ragazza o la donna con un'espressione diversa da quella di chi sta ascoltando qualcosa al telefono e fa, quella è soltanto una delle foto che è uscita, perché c'è questa per esempio, dove si vede che la donna non è affatto indifferente, ma questa fotografia non è uscita sul giornale, è negli siti delle agenzie, ma non è stata utilizzata, non è stata condivisa sui social network, perché non funziona per rinforzare un certo pregiudizio. Come non funzionano queste fotografie? Sì, questi sono uomini bianchi che passeggiano per strada indifferenti al dramma che si sta svolgendo, ma non fa notizia, lo fa. Una donna dall'aspetto orientale musulmaneggiante funziona, se siete tipo Texas Non Star. L'epigolo di questa storia è che Texas Non Star è uno degli account Twitter indicati dalle indagini governative, e non solo governative ma anche tecniche, come un account russo. Non è un americano, è un account generato da propaganda russa. Quindi questo genere di manipolazione lavora su tantissimi livelli. È importante conoscere tutti questi meccanismi, quindi il clickbait, il fatto che ci sono le fabbriche di fake news che guadagnano, per capire come orientarsi. E poi muoversi per capire come evitare certe illusioni. Io qui cito la senatrice Monica Casaletto, che pubblicamente su Facebook ha scritto questa cosa, il punto è che i media, lei fa un refuso un po' cattivello, i media ti usano solo al loro piacimento, mai il contrario. E siccome li conosco e conosco il loro potere disinformativo, uso la rete che è controllata da me e non da altri organi. Mi spiace, questa è una simpatica forse, ma è un'illusione. Internet è manipolabile esattamente e forse anche più dei mezzi di comunicazione tradizionali. Se non ci rendiamo conto che internet non è affatto indipendente dalla realtà, ma è immersa nella nostra realtà, rischiamo di trovarci di fronte a inganni di tutti i generi. Chi ci dovrebbe salvare da questa cosa? Il giornalismo, i bravi giornalisti, quelli che lavorano, quelli che stanno all'interno di una redazione, che percepiscono uno stipendio, che sono pagati per fare buona informazione. Purtroppo a volte questo meccanismo si incepe. Vi propongo un paio di esempi. Questa è il Repubblica, che segnala che nel novembre 2015 che sta per uscire un aereo supersonico che va da Londra a New York in 30 minuti. Bello, molto interessante. Ma quello che mi colpisce, a parte la forma, che è un disegno, la forma dell'aereo è questa descrizione. L'aereo viaggerebbe dieci volte alla velocità della luce. Ora, forse dieci volte alla velocità della luce avremmo risolto grossi problemi di fisica e il problema sarebbe la frenata probabilmente perché dieci volte alla velocità della luce fa il giro intorno alla Terra in una frazione di secondo, ma fa niente. Questo vuol dire che chi ha scritto la didascalia non sa la differenza fra la velocità del suono che c'è nell'articolo, nella notizia originale, è velocità della luce. È preoccupante che non si sappiano queste informazioni di base. Questa è scienza, non è una questione di discussione o di opinione. La velocità della luce è una cosa, la velocità del suono è un'altra. Oppure è interessante vedere come lavorano le redazioni. Non voglio infliggere, non voglio punire Repubblica, per carità. Processi di questo genere li ho visti in tante altre redazioni, però è capitato. Repubblica segnala qualche tempo fa, siamo nel 2015, questo elenco di sostanze cancerogene pubblicate in quel periodo e quindi in redazione presto ci sono queste 45 sostanze e dobbiamo fare una gallery. Perché si fa la gallery nei giornali? Perché la gente clicca. Clicca tante volte e in questo modo vede tante pubblicità. Quindi la gallery vale tanti soldi. Però la domanda è questa. I PCB, che sono la sostanza di cui si parla in questa fotografia, sono i policlorobi fenili che secondo la didascalia sarebbero ampiamente utilizzati per le apparecchiature elettroniche in passato. Non è vero, i PCB non c'entrano niente con i circuiti stampati, ma la domanda è, aspetta un momento, perché è PCB e l'immagine del circuito stampato. E allora qui salta fuori l'abitudine del detective antibufala che sapendo che la maggior parte delle notizie arriva da fonti estere, dice ma in inglese com'è? PCB? Aha, printed circuit board, circuito stampato. Cosa hanno fatto? ipotesi. Vai su Google, presto devi fare 45 foto, vai su Google, non è che chiami l'agenzia con le foto, no no, vai su Google, cerchi quello che c'è scritto nella didascalia, PCB, buona la prima e infatti in questo caso buona la terza. Quindi questo è il modo in cui si fanno spesso, non sempre ma spesso, si fanno le gallerie di fotografie, le rassegne di fotografie. Questo vuol dire che c'è un problema di processo redazionale, se non considero questo fatto, se mi fido ciecamente di quello che mi propone il giornale, ho un problema, io come utente. È un caso molto particolare di queste proposte, questa è una foto molto particolare, un po' inquietante, questo è Sky TG24, non è un sito falso, questo è il vero Sky TG24, l'Isis pubblica la foto di un presunto kamikaz responsabile degli attacchi a Parigi, siamo a novembre del 2015 e la foto è particolarmente inquietante perché ti mostra un terrorista suicida sorridente, beffardo, è una foto molto potente, infatti viene pubblicata da molti giornali come appunto il giornale, viene pubblicata dal Fatto Quotidiano questa volta, attira anche l'attenzione di Peter Gomez, direttore della testata, ma proviamo a esaminarla e qui vorrei giocare un po' con voi, vorrei farvi fare i detective antibufala, esaminiamola in dettaglio questa fotografia, c'è qualcosa che non va, ci sono vari elementi di contraddizione, di sospetto, per esempio uno dei primi che potrebbe venirvi in mente è che ci sono sospese in aria delle prese elettriche, le vedete in basso sulla sinistra, cosa ci fanno sospese per aria delle prese elettriche? Non è una foto tradizionale, è una foto fatta allo specchio, quindi è un bagno nel quale c'è uno specchio e lui si è fatto un selfie allo specchio, ma se è allo specchio dov'è la macchina fotografica? Allora forse quello che ha in mano non è un libro, una specie di forse un corano, ma è un tablet. Ma soprattutto, e qui bisogna essere un po' attenti ai dettagli, c'è una domanda fondamentale, ci sono due altri aspetti, il primo è che quelle prese elettriche, ricordate stiamo parlando di un attentato svoltosi a Parigi, quelle non sono prese francesi, sono prese che si usano nel continente americano, cosa ci fanno? Allora qui bisogna cercare di costruire una storia, che senso ha che un terrorista si metta il giubbetto esplosivo, si faccia un selfie quando è negli Stati Uniti, in Canada, dopodiché prende con il giubbetto esplosivo, lo mette in valigia, attraversa l'oceano, poi se lo rimette si fa saltare in aria, c'è qualcosa che non va. Allora fin qui può arrivarci la semplice osservazione, se poi avete un po' di dimestichezza con le religioni, noterete che il copricapo che è in testa non è un copricapo musulmano, ma è un copricapo Sikh, ma questo può sfuggire la maggior parte degli osservatori. Allora qui ci vengono utili gli strumenti, io vi faccio vedere come ho fatto l'indagine su questa cosa, in tempo reale, molti dicono, ma chissà che lavoro complicato, a volte sì, ma la maggior parte delle indagini richiede letteralmente 5-10 minuti di controllo, la parte più lunga è scrivere l'articolo, infatti quello che ho fatto è prendere questa fotografia, darla in pasto a questo sito, che si chiama tnai.com e vedere che cosa succede. Come vedete adesso l'ho caricata, questa è la registrazione di quando io ho fatto l'indagine, l'ho caricata, l'ho mandata a TNAI, TNAI mi ha risposto rapidamente dicendo sì, ne ho trovati vari risultati e questi sono quelli che mi interessano, fin qui sono semplicemente copie della stessa fotografia, scorro, vedo che ci sono i siti di notizie principali, ma a un certo punto, scorrendo questo elenco, vedo che ci sono due versioni della stessa fotografia. Ah, interessante, una è una persona che tiene in mano un tablet, non ha il giubbetto esplosivo e l'altra invece è la nostra foto originale. E trovo la fonte di questa notizia, è in realtà un fotomontaggio che è stato fatto da un gruppo di videogiocatori per vendicarsi di un giornalista Sikh canadese. Questo spiega il copricapo, spiega le prese di corrente, spiega il selfie sorridente, perché era semplicemente un giornalista che si faceva un selfie in bagno, anche i giornalisti fanno queste cose. Come mai io, dal mio ufficio, sono stato in grado di fare questa indagine in mezzo minuto e nessuna di queste testate ha fatto altrettanto? Abbiamo un problema redazionale, forse ci sono troppi giornalisti che non conoscono l'uso di questi strumenti, adesso voi li conoscete, potete usarli allegramente. Curiosa poi è la reazione di molti giornali, quando sono stati colti in flagrante a pubblicare una foto che poteva essere verificata per scartarla subito come falsa, hanno fatto la cosa strategicamente più efficace, cioè hanno pubblicato un altro articolo dicendo smentita e in fianco all'articolo, come al solito, c'è un nuovo spazio pubblicitario, quindi pubblica la notizia falsa che contiene pubblicità, la gente ci clicca, dopodiché pubblica la smentita che contiene pubblicità e la gente ci clicca per sapere la smentita, quindi funziona molto bene. Non è solo un problema di giornali, di testate online, ma anche di agenzie di stampa, questa è ADN Kronos che pubblica un articolo nel 2015 dove si parla di respirianesimo che, non sto scherzando, è una credenza secondo la quale si può vivere senza mangiare. Dalle vostre parti è particolarmente difficile perché si mangia benissimo, ma ammettiamo di avere delle difficoltà economiche, beh, allora in questo caso non c'è problema, ti metti al sole, respiri l'aria buona, a posto, i supermercati possono fallire, non serve più mangiare. Questa è pericolosissima, questa è una bufala di salute che ha indotto alcune persone a crederci fino a farsi morire, convinte che ci fosse veramente questa possibilità. Come mai un'attestata, non un'attestata giornalistica, ma un'agenzia di stampa si permette di pubblicare una notizia falsa? Perché la gente ci clicca. Qui siamo un po' responsabili noi dello stato di cose. La notizia più cliccata di ADN Kronos quel giorno è proprio questa, vivere senza cibo, sempre più italiani scoprono il respirianesimo. Addirittura più importante è la notizia alla carne rossa potenzialmente cancerogena. Perché? Perché in fianco c'è la pubblicità. Quindi va bene, non ha importanza se la notizia è vera o falsa, l'importante è che sia cliccabile. Se è cliccabile il giornale, l'attestata, l'agenzia giornalistica guadagna. Quindi è importante che tutti noi siamo consapevoli di questi meccanismi che avvengono dietro le quinte, in modo da evitare di esserne manipolati. Magari qualcuno può dire sì, ma no, ma sono solo le versioni online dei giornali, i giornali cartacei sono tutta un'altra cosa. Questo è un esempio un po' vintage, però è sempre carino. Questo è la stampa. La stampa pubblica in copertina, prima pagina, questa notizia, questa fotografia di Sarah Palin, che all'epoca era candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti, è talmente Glamour, che viene addirittura presa per la copertina di Vogue. No, assolutamente no. Questa è la copertina di Vogue presentata dalla stampa in dettaglio, se qualcuno ha un po' di buona vista e un po' di conoscenza di Photoshop, si rende conto che quella faccia è incollata dal peggior photoshopatore del pianeta. È un falso, eppure è uscita nella versione cartacea della stampa, in prima pagina, al centro. Nessuno ha controllato che questa foto fosse autentica. Bastava chiamare con denast, Vogue, dire scusa, ma copertina com'è? Davvero avete messo la pelle in copertina? No, fa niente, è una bella storia, la pubblico, senza controllare. Quindi in sostanza il problema non è solo di internet, è un problema di tutti i media. Una volta che ho questa consapevolezza posso decidere come muovermi. Questa cosa ha delle conseguenze, non è semplicemente un fenomeno così da osservare con attenzione. Le conseguenze sono che stiamo perdendo credibilità giornalistica, noi tutti come giornalisti, se i giornali pubblicano notizie palesemente false come queste, viene il dubbio, ma chissà quante altre mi stanno passando davanti, io neanche mi accorgo che sono false. Come mai questo calo di credibilità? C'è un motivo, e questo è un motivo internetiano, totalmente dedicato, derivato da internet. Ed è questo, questo è un grafico, giuro di non infliggervi troppi grafici, non piacciono neanche a me, ma questo è molto eloquente. Fa vedere l'investimento pubblicitario negli Stati Uniti, nel mondo delle radio e televisioni e dei giornali, nel corso degli anni. Come vedete, fino al 2000 circa, continua a salire. Poi arrivano Google e Facebook, che prendono completamente il posto delle inserzioni sui giornali. I soldi sono stati letteralmente tolti dai giornali per portarli a Google e Facebook. E questo è preoccupante, perché crea un accentramento di potere in due organizzazioni commerciali e toglie l'ossigeno a tutta la parte di giornalismo professionale. Non puoi mantenere un giornale se non guadagni i soldi. Gli abbonamenti non bastano, serve la pubblicità. Se non c'è la pubblicità, chiudi. E se chiudi non fai giornalismo. Cerchi di stare a galla prendendo lo stagista, che è quello che non sa la differenza fra la velocità della luce è quella del suono. Quello che non si rende conto è che Trump in realtà ha detto che era stato la libertà da portare via perché è un articolo satirico. E via dicendo. I dati sono davvero preoccupanti, perché questa è l'ascesa degli incassi di Google e Facebook. Tanto per darvi giusto un paio di dati, nel 2017 due terzi di tutti i soldi spesi nel mondo per la pubblicità nei new media vanno a cinque soli nomi. Google, Facebook, Tencent, Baidu e Alibaba. Gli ultimi tre sono per il mercato cinese principalmente. Circa la metà di questo denaro va a Google e Facebook. I ricavi pubblicitari di Google sono pari ai ricavi pubblicitari di tutti i giornali del mondo messi insieme. Quelli di Facebook sono quasi pari a quelli di tutte le radio del mondo messi insieme. Per farlo a breve, Google e Facebook insieme raccolgono più soldi pubblicitari di tutti i giornali, di tutte le riviste e di tutte le radio del mondo messi insieme, eccetto la televisione. Questo è il mondo in cui viviamo oggi. E questo mondo è nato per un fenomeno particolare che spiazza completamente il giornalismo tradizionale. Si chiama programmatic advertising. Quando ero a Montecitorio c'era uno dei direttori di testata che era angosciato. Siamo schiavi del programmatic advertising. Che cos'è? È quella cosa per cui quando voi andate su Google e digitate viaggi in Thailandia o scarpe tacco 12, cosa che faccio periodicamente, improvvisamente nei giorni successivi tutti i siti che visitate sono pieni di pubblicità di viaggi in Thailandia e pubblicità di scarpe tacco 12. Come fanno a sapere questa cosa? Perché quando noi andiamo sui social network e quando usiamo internet siamo tracciati commercialmente. Questo tracciamento commerciale è una cosa che un giornale non può fare. Perché il programmatic advertising fa questa magia. Voi state per visitare una pagina di un sito qualsiasi? Il sito contiene una notizia, c'è uno spazio nel quale comparirà la pubblicità. Quella pubblicità non è fissa per tutti, è variabile in base al vostro profilo personale, quello che avete messo nei social network. Siete alti, siete magri, non siete magri, siete ricchi, siete abbienti, siete in difficoltà alla fine del mese, siete appassionati di fantascienze, siete appassionati di scarpe tacco 12, sanno tutto di noi e viene fatta un'asta silenziosa che dura microsecondi per proporre a ciascuno di noi la pubblicità che ha la massima probabilità di essere cliccata per acquistare un prodotto. Questo è il programmatic advertising. Immaginate un quotidiano dove le pubblicità sono diverse per ciascun lettore, sono fatte su misura per quel lettore. A me non arriveranno mai le pubblicità dei pannolini, a una famiglia che ha bambini in età da pannolini arriverà la pubblicità di quel prodotto e così via. Questa è una cosa che nessun giornale, nessuna televisione, nessuna radio può fare e questo è il motivo per cui stanno vincendo Google e Facebook. Se conosciamo questo meccanismo possiamo cominciare a rifiutarlo, a evitare che siamo così tanto bombardati. Allora proviamo a prendere un po' di tecnica. Quali sono gli strumenti che possiamo usare? Ora che abbiamo il panorama della situazione, che è drasticamente diverso da quello del passato. Prima cosa, sapere quali sono i siti che fabbricano bufale. Non leggetelo tutto, non vi preoccupate, vi faccio giusto vedere alcuni di questi siti in italiano. Li trovate aggiornati presso bufalepedia.it, mi scuso anche per alcuni nomi un po' scurrili, ma sono dei giochi di parole, delle assonanze o delle grafie analoghe a quelle di molti siti conosciuti. Quindi c'è, per esempio c'è il fallo quotidiano, ognuno ha bisogno di quello che gli serve, poi c'è panorana e via dicendo. Non è un fenomeno soltanto italiano, ci sono anche siti analoghi in lingua straniera, molti sono in inglese perché è la lingua che circola di più, quindi ne vedete un elenco. Nell'elenco italiano avrete notato che ho incluso l'ercio, sempre si ha lodato l'ercio, sono amici, sono bravissimi, sono dei bravissimi autori di satira, però comunque fanno fake news, tecnicamente sono notizie false. Quando l'ercio titola bambino troppi metalli nei vaccini, bambino arrugginisce dopo il bagnetto, è un capo a lavoro, stanno facendo fake news, stanno facendo una parodia dell'antivaccinismo. Il guai è che molta gente crede che queste siano notizie vere. Vedi, l'ha letto l'ercio, ma l'ercio è un sito di satira, va niente. C'è un contraltare, oltre a questi siti di fabbricazione di fake news, ci sono anche i siti che fanno debunking, qui ne vedete un accenno, sono i principali sia in lingua italiana sia in altre lingue. Abbonatevi ai loro servizi, non si paga nulla, sono gratuiti, ma se sapete usare i feed RSS o comunque se li frequentate almeno una volta al giorno, vedrete le notizie prima che escano sui giornali, già smentite in molti casi. Ci sono delle collaborazioni, per esempio su Twitter ci sono moltissimi account, di testate giornalistiche, i francesi sono molto avanti in questo senso, hanno fatto per esempio, Libération ha fatto una redazione dedicata alle fake news, perché le fake news sono state considerate subito in Francia un problema sociale e quindi si è intervenuto per cercare di avere un'organizzazione che stipendiata analizzi le notizie e verifichi che siano veritiere. Per esempio questa fotografia drammatica che viene presentata su internet dicendo bambino palestinese disarmato subito dopo essere stato colpito a morte dalla polizia israeliana, guarda con sfida il suo assassino, non è vera, è presa da un film, un film del 2012 si chiama Il regno delle formiche di Chauki Mejri, ma fa niente, la fotografia funziona, la gente ci crede perché vuole crederci. Quindi prima cosa, sapere da dove vengono le notizie. Dopodiché, piccola lista della spesa. Più una notizia è straordinaria, più la devo controllare. Quindi se qualcuno mi dice che l'economia va male, ci posso credere, se invece l'economia mi dice che sta, mi dicono che sta avendo un boom improvviso, voglio delle prove molto solide. La derivazione di questa è il principio di Belzebù, vale a dire se qualcuno mi racconta una storia dalla quale ha un vantaggio, devo dargli un po' di tara. Se invece va contro le sue idee, probabilmente è vera. Informazione laterale, il trucco che abbiamo rubato agli storici, vale a dire, vuoi sapere come stanno realmente le cose? Non vai né dal vinto né dal vincitore per sapere come è andata una battaglia, ma vai a vedere la contabilità. Per esempio, volete sapere se il triangolo del Bermuda è un fenomeno vero o falso? Non andate né dagli scettici né dai credenti, andate dagli assicuratori. C'è un bonus per il pagamento, c'è un supplemento per l'attraversamento del triangolo Bermuda? No. Nei registri delle navi affondate c'è un'anomalia nel triangolo Bermuda? No. Fine del problema. Quindi esistono degli strumenti di buonsenso e di indagine classica. E poi c'è una regola che se diventate detective come me vi consiglio di tenere sempre ben presente. È il principio della montagna di letame. Inventarsi una bufala richiede pochissima fatica. Invece debancarla, cioè smontarla, può richiedere tempi biblici. Il problema è proprio questo, cioè fare tanto letame costa poca fatica. Spalarlo richiede tanta fatica e la puzza ti rimane addosso comunque. Per cui sceglietevi bene le vostre battaglie prima di fare questo genere di mestiere. Ci sono alcune cose, e qui mi riferisco soprattutto alle questioni di salute. Se io vedo queste parole all'interno di un articolo che non sia di fisica mi devo subito preoccupare. Si deve accendere la lampadina fake news. Quando sentite qualcuno parlare di quantistico, sì sì questo è un nuovo detersivo quantistico. Questo talismano ti fa migliorare le prestazioni sessuali grazie al suo potere quantistico. C'è sempre, il quantistico lo ficano dappertutto. Ovviamente naturale, qualunque cosa è naturale. Naturale non vuol dire innocuo, ditelo a quelli che prendono i veleni presenti nelle piante. Nikola Tesla, se lo nominano, e non stiamo parlando di automobili elettriche, è sicuramente una fake news. Quando sentite parlare di scienza ufficiale, stessa cosa. Non esiste una scienza non ufficiale. Esiste la scienza e basta. Quindi c'è la scienza che funziona, ci sono i fatti, il resto è fuffa. Chiamiamola col suo nome. Quando qualcuno gli chiede, ma mi dai le prove di quello che stai dicendo? Ti dice, no, sono segrete, non li si può dire, ci sono i poteri forti che mi impediscono. Ti sto chiedendo di pubblicarle così. No. Se si rifiuta la trasparenza vuol dire che c'è qualcosa che non va. E poi soprattutto attenzione quando ci sono in mezzo gli scienziati esotici. Il grandissimo professor Popov dell'Università di Kaliningrad, mai uno dell'Università di Bergamo, che posso telefonargli, parlargli in italiano e dire, spiegami, ma è vera questa cosa. Quindi un po' di controllo. Altra parte della lista della spesa, le fonti. Sempre cercare. Sempre qual è la fonte originale di una notizia. Vi confesso, vi racconto un piccolo segreto. Buona parte delle notizie di tipo semiscientifico, parascientifico che trovate sui giornali italiani sono prese da una fonte molto particolare. Si chiama Daily Mail. È un giornale scandalistico inglese, uno dei più letti. Pubblica qualunque fesseria. Gli UFO sono atterrati alla Casa Bianca. No, non sono atterrati alla Casa Bianca. Sono atterrati sotto. Anzi, la Casa Bianca è un UFO. Bush è un rettiliano. No, non è Bush. Obama è un rettiliano. Guardagli bene gli occhi. Vedi nei fotogrammi delle telecamere che si vedono gli occhi con la fessura e via di cena. Altra cosa. Noi tutti conosciamo delle persone esperte nei loro rispettivi settori. Medici, piloti di linea, idraulici. Ognuno ha un giro di amici di esperienza. Io lo chiamo il motore di ricerca umano. Quando io devo fare un'indagine, non mi baso soltanto su internet, chiamo gli esperti. Dico, senti, tu, che ci conosciamo, tu sei un esperto, sei un chimico, spiegami questa cosa della bio washball, la pallina che dovrebbe sostituire il detersivo. Mi dice, è una fesseria. Ti spiego anche perché. Facciamo anche delle prove pratiche. Così perlomeno posso cominciare a sgrossare il problema. Vado sui siti antibuffala. Qualcuno magari ha già fatto l'indagine, quindi posso verificarla. Quindi rivedo che cosa hanno fatto. Se è giusto, posso associarmi alla loro diagnosi. I motori di ricerca sono comodissimi. Permettono attraverso i nomi, i luoghi e le date di scoprire dove è stata pubblicata una certa notizia. Devo sempre essere attento che siano tutti i dati disponibili. Quindi non solo quelli che sono stati selezionati ad arte per confermare una certa tesi. E poi devo chiedermi sempre se la storia è una coerenza interna. Ripensate un attimo alla foto del terrorista kamikaze. È coerente quella storia? No, perché ci sono quelle prese americane per un attentato che si svolge in Francia. Già quello è un ottimo indicatore di falsificazione della notizia. Allora a questo punto, tecnicamente che cosa possiamo fare? Allora, questa che vi propongo adesso è la mia cassetta degli attrezzi. La maggior parte delle indagini che io faccio usa soltanto questi attrezzi. Ve li do, sono a vostra disposizione, sono su internet. Basta molto spesso scrivere fra virgolette una frase tratta dall'articolo, dalla notizia che state indagando, associarla poi alla parola bufala, fake o hoax e scoprirete che qualcuno ha già fatto un'indagine e quindi sa già dirvi se la notizia è confermata o no. Google, siamo tutti abituati a usarla in maniera banale, semplice, ma c'è una ricerca avanzata che vedete a quell'indirizzo. Se imparate a usarla, diventa uno strumento potentissimo. In pochi secondi arrivate dritti al risultato che vi serve. Volete fare ricerca negli archivi delle notizie, c'è news.google.com, vi serve un articolo uscito su un giornale argentino, news.google.com, vi permette di scegliere il singolo paese, un periodo di tempo e altri parametri per indagare su una notizia. Scholar.google.com invece raccoglie tutte le pubblicazioni accademiche, quindi i vari paper scientifici, sono disponibili online, li puoi cercare. Idem per la maggior parte dei libri pubblicati in qualunque lingua, vai su books.google.com, scrivi l'argomento che ti interessa, vengono fuori i libri che ne parlano, addirittura puoi cercare all'interno del testo di tutti i libri. Tinai e Karma Decay, suo parente stretto, sono sistemi di ricerca molto comodi e qui possiamo vedere quella pagina, scusate ho saltato archive.org che merita di essere citato. Archive.org è un archivo, è la memoria di internet, tutti i siti web vengono archiviati lì, per cui segnatevi anche questo nome, archive.org. Se un sito scompare da internet lo troverete memorizzato su archive.org, quindi se qualcuno fa il furbo, sparisce e cancella in sabbia una notizia, archive.org se l'è conservata. E qui possiamo vedere appunto quella schermata di ricerca avanzata, inizialmente sembra un po' complicata, ma in realtà è molto semplice, mi basta immettere i vari valori che mi interessano all'interno di queste caselle, per esempio le parole esatte, la sequenza di parole e in pochi secondi arrivo direttamente a destinazione. Funziona talmente bene che posso fare indagini come per esempio questa. Questo è un piccolo caso pratico. Mi arriva una notizia, c'è Pino Scaccia, giornalista, che segnala questa storia inquietante, addirittura c'è una sconvolgente contro l'inchiesta sull'11 settembre e questa inchiesta si chiama Oltre alla disinformazione, c'è un documento che ne parla. Ok, mi serve, voglio saperne di più. Cosa faccio? Vado sul sito che pubblica questo documento. Come si chiama in inglese? Beyond Misinformation. Va bene, eccolo qua. Qual è il sito che pubblica? Questo, che fra l'altro è gestito da un'associazione di architetti ingegneri, molto interessante, avranno sicuramente qualcosa di interessante da dire. Ostacolo nell'indagine, la pubblicazione è disponibile soltanto a pagamento, quindi dovrei pagare per avere questo documento, aspettare che la transazione vada in porto, poi mi arriva il documento, chissà quando, ma io ce l'ho bisogno subito, ho bisogno almeno di scremare la notizia, ho poco tempo. Soluzione? Uso la ricerca avanzata di Google, chiedo a internet, beyond misinformation, fra virgolette, e ci aggiungo file type, due punti, pdf, cioè vuol dire trovami tutti i documenti di formato pdf che contengono quel titolo, o quella frase, e puntualmente vedete che Google in una frazione di secondo mi dice guarda, quel documento che stai cercando, quello che dovresti comprare e aspettare che ti arrivi, lo puoi avere gratis qua, lo scarichi, lo guardi, ti accorgi che è pieno di fuffa. Quindi in pochi minuti riesci a arrivare al dunque. Oppure casi pratici come questa, questa è una società che faceva viaggi della speranza in Cina, con una truffa che riguarda anche le cellule staminali, situazione tristissima, e mi viene chiesto dai miei colleghi, io lavoro per la radio e televisione svizzera, mi viene chiesto dai colleghi dovremmo fare un'indagine su questi, solo che il sito è chiuso, hanno fatto sparire tutto, non abbiamo niente da far vedere agli spettatori a casa. E io dico guarda, non c'è problema, c'è la memoria di Google e c'è la memoria di Archive che ci permette di andare a recuperare tutto quello che c'è. E alla fine infatti riusciamo a avere la schermata che non c'è più su internet, ma è nella memoria di Archive.org. E quindi ecco, abbiamo le dichiarazioni che c'erano sul sito, che loro hanno nascosto, quindi sono sicuramente interessanti, e abbiamo anche un link a un video su YouTube che era rimasto online e che quindi abbiamo scaricato e presentato. E così nel giro di pochi minuti è stato possibile partire con un servizio televisivo. Queste sono le potenze straordinarie dei sistemi del giornalismo digitale. Quello che a me dispiace è che molti miei colleghi non sono ancora pronti per fare questo genere di indagine. Se diffondiamo, sono strumenti che, ripeto, sono gratuiti, possiamo usarli tutti, se diffondiamo questo genere di competenza e consapevolezza riusciamo a fare veramente tanto, tanto per risolvere il problema. Chiudo con una chicca, una curiosità, ho infierito un po' su Repubblica, però vorrei prendere di mira anche un pochino il Corriere della Sera, perché insomma ogni tanto gli inciampi capitano da tutte le parti. E ce n'è una molto carina che lega scienza e bellezza. Dai Caraibi emerge una civiltà sommersa. Una di quelle classiche notizie. Atlantide la trovano ogni 15 giorni, no? Sembra Atlantide qui, Atlantide lì, vai in giro in continuazione, fermati. Eppure i giornali ci campano molto con queste cose. È una bella notizia, è molto cliccabile, ma è falsa. Come mai sono così categorico nel dire che è falsa? Perché vado a cercare l'informazione, l'approfondimento, vado a cercare le fonti originali, salta fuori che questi archeologi non sono andati a fare le immersioni, hanno trovato pezzi di Atlantide. Non so come si faccia a sapere se uno è un pezzo di Atlantide, non so se c'è scritto Made in Atlantis o qualcosa del genere. Comunque, lasciamo perdere, non sono neanche usciti di casa, hanno fatto la ricerca su Google Earth. Cioè sono andati su internet, davanti al computer Google, fammi vedere il fondo del mare attraverso Google Earth. Ora, questo è un classico problema di dissociazione dalla realtà. Quello che vediamo in Google Earth è una riproduzione digitale, come tutte le riproduzioni digitali, ha degli artefatti, cioè degli oggetti che in realtà non esistono, ma sono generati dal processo matematico di compressione delle immagini. Per chiarire il concetto vi faccio vedere. Questo è uno di questi artefatti. Loro dicono ecco abbiamo trovato Atlantide, guarda in fondo al mare si vede questa roba, questi sono chiaramente degli edifici, delle vie, delle strade, dei magazzini, chissà che cosa. E invece no, sono semplicemente artefatti di compressione. Se voi fate una foto con una macchina fotografica, il vostro telefonino, la guardate in dettaglio, vedrete che è compressa, ci sono dei quadratoni che riassumono l'immagine. Non è come la fotografia classica su pellicola dove c'è uno sfumato. Ci sono molto spesso dei quadratoni che danno un po' anche fastidio quando si ingradisce tanto. Però mi serviva un modo memorabile per dimostrare questo concetto, per cui vi propongo la mia scoperta di Atlantide. La vedete qui, questa è la scoperta fatta in un luogo estremamente particolare che ho trovato con grande difficoltà. Qui vedete che c'è questa disposizione regolare di queste vie, sembrano cose di campi coltivati visti dall'alto e c'è questa zona scura in alto a destra. Però questo è in bianco e nero. Proviamo ad aggiungere il colore. È tutto più uniforme e forse quella cosa là in alto non è una struttura, un grande risultato dell'edilizia di Atlantide. Forse è il sedere di Belen Rodriguez. Quindi, come mai chi lavora per il corriere non sa che esistono gli artefatti di compressione e non fa un minimo di verifica? Questa è una grossa domanda di cui mi piacerebbe avere una risposta. Allora, visto il quadro della situazione, cosa facciamo? Ci facciamo prendere dal panico? Ci buttiamo fra le braccia della paura? Assolutamente no. La prima cosa è reagiamo, si può fare, ci sono degli strumenti, evitiamo però la censura. La censura non funziona. Internet elude la censura costantemente, è fatta apposta. Non funzionerà mai, anche se da diversi governi si sono sentite delle spinte molto forti. Quello che ci serve è un buon giornalismo, che ha degli strumenti. Li abbiamo visti un assaggino questa sera. Ci sono, usiamoli. Servono dei giornalisti che siano disposti a fare quel passo in avanti di conoscenza degli strumenti di internet. Serve una comunicazione di massa? Serve che la proverbiale casalinga di Voghera, prima del telegiornale, veda uno spot nel quale si dice, come si faceva una volta per il fumo, chi fuma avvelena anche te. Chi condivide sui social avvelena anche te, digli di smettere. Perché il solo gesto di condividere una notizia falsa ci rende complici. Quindi proviamo a fare un passo indietro anche noi. Quella notizia, mi viene il minimo dubbio che possa essere falsa. Non la condivido. Non faccio quello che si fa di solito, ma nel dubbio la mando agli amici, poi si arrangeranno loro. Una cosa che possiamo fare è usare i cosiddetti adblocker. Sono delle applicazioni che si installano sui computer, sui telefonini e bloccano le pubblicità. Guardate il sito ma non venite bombardati dalla pubblicità. Possiamo tenerlo attivo per la maggior parte dei siti e poi disattivarlo, quindi lasciare che alla pubblicità passi e quindi ci siano incassi a favore del sito, per quei siti che fanno buona informazione. Non condividiamo se abbiamo il minimo dubbio e internet diventa il nostro antidoto. Non sono principi generici così astratti, c'è una cosa molto bella. Queste cose già le stiamo facendo. Esiste un'associazione di liberi cittadini, di persone che hanno in comune soltanto l'uso di Twitter. Si chiamano Sleeping Giants, i giganti dormienti. Loro si sono meritati l'attenzione del New York Times perché fanno una cosa molto particolare. Vanno nei siti, guardano le pubblicità e poi avvisano, soprattutto i siti razzisti, i siti che alimentano l'odio, i siti di fake news e poi chiamano gli inserzionisti per dire scusi signor Volvo, ma lei lo sa che la pubblicità delle sue automobili è su un sito dei razzisti? È contento di avere associato il suo marchio a queste cose? Santo cielo non lo sapevo, togliamo il contratto pubblicitario. Fallo con Volvo, fallo con Ikea, fallo con tante marche, alla fine Brightpart, quel sito razzista, quello delle luci di Natale vietate per non indignare i rifugiati, è riuscito a togliere più del 90% della pubblicità a Brightpart, la fonte che Trump usa. Quindi le cose si possono fare? La parola chiave in tutto questo discorso è abbiamo un lavoro da fare, rimbocchiamoci le maniche, ma niente parura, niente panico, ce la possiamo fare, c'è la speranza. Se avete domande sono a vostra disposizione. Grazie. Complimenti, ho fatto tutto ad un fiato. Allora ragazzi, la curiosità di vedere che cosa ha fatto, hai visto Paolo, mentre tu parlavi, questa ti ha fatto lo scanner, ha ascoltato tutto quello che dicevi e ha fatto che cosa, cara Sara? Oddio, ho sintetizzato quello che ci raccontava, ovviamente mancano tutte le immagini, però ho provato a tenere i concetti quelli clou e i consigli che ci hai dato, grazie. E senti, ma come si chiama questa tecnica? C'è un modo per identificarla? La sintesi visuale si chiama graphic recording. Ecco, graphic recording, ricordatevelo, no? Questo poi lo potremo condividere, giusto? Certo, certo, fermano, perché loro possano ricordarsi un po' più facilmente quello che ci hai raccontato. Quindi è una specie di, come dire, ritratto della serata, quindi se uno volesse un autoritratto dovrebbe parlare con te per tre ore e raccontarti un sacco di cose. Grazie, ci sarà anche domani e domenica sera. Sara, sera Valle, giusto? Bene, allora prima di salire sul palco magari faccio una domanda subito a voi, visto che siamo in un clima molto confidenziale. Avete qualche curiosità per il detective? Ecco, faccio la valletta. Buonasera, volevo farle due domande, cercherò di essere il più sintetico possibile. Allora la prima riguarda la questione Butac, che è il sito di Antibufale, che è stato chiuso qualche giorno fa ed è stato successivamente riaperto, quindi mi interesserebbe sapere la sua opinione, dato che è un collega del titolare del sito. La seconda curiosità è quando c'è il sito Infowar, che al di sotto dell'immagine sulle raneghe, insomma, c'era il simbolo di Pepe Larana, che è praticamente il simbolo dell'alt-right americana. Quindi mi sembra di trovare una sorta di corrispondenza tra il fenomeno delle fake news e il fenomeno dei meme con uno scopo propagandistico, una inferenza che fondamentalmente ha portato alla vittoria di Trump, perché sappiamo bene che è arrivato a governare gli Stati Uniti con un supporto fondamentale del movimento alt-right americano. La mia domanda è, un fenomeno del genere, quindi l'usare il meme per veicolare fake news e l'usare il meme che veicola fake news, per veicolare dei messaggi di propaganda. È un qualcosa che può avvenire qui in Italia? Le faccio, cioè, le cito un esempio che ha riportato lei stesso, quello per esempio della foto di Samuel L. Jackson e di Magic Johnson, che è stato condiviso da Nina Moric, la quale poco tempo fa si è schierata pubblicamente a favore di un partito di estrema destra, ovvero Casa Pound Italia. Quindi mi chiedo se è possibile che in Italia certe idee reazionarie possano portare al cambiamento politico comunque a veicolare e quindi a portare al potere delle idee politicamente schierate. Grazie. Dunque, per ricordare la prima domanda, Operazione Trasparenza, Butac, Michelangelo Coltelli è un mio amico, abbiamo lavorato insieme per la presidenza della Camera, quindi non sono un osservatore imparziale, cerco di essere lo stesso. La questione è molto preoccupante, nel senso che è stato deciso dalla magistratura di oscurare un intero sito di debunking per un singolo articolo oggetto di querela. Adesso il sito è stato dissequestrato, il problema è che, a parte la misura esagerata a mio avviso rispetto alla necessità, è come dire dobbiamo chiudere un intero giornale perché è un giornalista sbagliato, allora può venire Corriere Repubblica con le onde ghiacciate, con i loro aerei iperluminali, non so neanche come chiamarli, dovrebbero chiudere in continuazione. Quindi il provvedimento, a mio avviso, è stato esagerato nelle dimensioni, nelle proporzioni. Si poteva semplicemente chiedere, guarda, rettifica quell'articolo. Non mi risulta che questo sia stato neanche chiesto. Adesso la domanda è quanto tempo passerà, quanti soldi dovranno essere spesi da Butac per difendersi da una querela che potrebbe anche essere una querela temeraria. C'è un effetto consolatorio in tutta questa storia perché la persona, il medico olistico Claudio Pagliara che ha fatto questa querela, adesso tutti lo conoscono e tutti stanno leggendo i suoi scritti. Questo non è necessariamente un bene per lui perché alcune delle sue affermazioni, sto misurando le parole, non sono esattamente di ortodossia medica. Però di fatto sono lì, sono da vedere. È una brutta storia, è una brutta storia che si debba arrivare a mettere sotto sequestro un intero sito per un singolo articolo, quando esistono degli strumenti che lo correggono, che permettono di gestire la cosa serenamente. A me è capitato, a me è capitato di ricevere delle notifiche, guarda, è sbagliato questo articolo, c'è questa informazione che non avevi, correggila, ok, perfetto. Nessuno pretende di essere infallibile. Quello che si fa è, ho sbagliato? Me lo dici? Correggo. E ti ringrazio anche che mi hai segnalato l'errore, perché hai migliorato la mia qualità. Per quel che riguarda invece l'alt-right paper, eccetera, sì, è vero, Infowars è legatissimo a questi movimenti di estrema destra americana, perché è il cospirazionismo estremo prospero, soprattutto in queste aree ideologiche. Se la cosa si può sviluppare anche in Italia, secondo me è già successo, ci sono già dei memi che circolano, dei blog di vario genere, delle immagini accompagnate da testo, che cercano di promuovere varie idee. Lo fanno sia per le idee sulle quali magari non siamo d'accordo, sia con le idee che condividiamo. Quindi per esempio esistono anche delle operazioni di correzione delle idee antivacciniste. Per esempio il meme che dice, ti ricordi la polio, i polmoni d'acciaio, no? Ecco perché, perché ci sono i vaccini. Quindi è uno strumento che si può usare in entrambi i sensi. Che ci siano delle organizzazioni che intenzionalmente su commissione da parte di movimenti politici o anche di aziende utilizzano uno strumento del meme? Assolutamente sì, è normale, è uno strumento di comunicazione, è un nuovo banner pubblicitario, è un nuovo spazio dove io posso affiggere il mio slogan, il mio messaggio, la mia propaganda. Quindi sì, questa cosa avviene frequentemente, a volte con risultati da autogol totale, a volte con risultati di grandissimo successo. È importante sapere che molti di questi meme non sono così, come dire, generati dal basso, spontaneamente da qualche mente creativa. Sono costruiti a tavolino. E molto spesso, grazie agli strumenti ancora più avanzati di quelli che vi ho fatto vedere questa sera, è possibile risalire al mittente. Il mio collega David Puente, presso davidpuente.it, fa esattamente questo tipo di indagine. Da dove viene questo contenuto? Da dove viene questo tweet? Chi è stato il primo a usare questo hashtag? E in questo modo si riesce a risalire alla fonte e molto spesso alla fabbrica delle notizie. Qualcun altro? Allora, noi siamo in un paese occidentale democratico, almeno fino a stasera, almeno quando non sono finite le consultazioni, scherzo. E abbiamo Paolo Attivissimo, ma faccio l'esempio della Cina, perché ovviamente è l'esempio più grande. In Cina potrebbe esistere un Paolo Attivissimo. La classe dirigente si rende conto del problema, non se ne rende conto, preferisce soppire, troncare, insomma ci siamo capiti cosa voglio dire. È una bellissima domanda, ne ha un'altra? No, no, allora, no, è davvero una bella domanda. Perché per quel che mi riguarda, lasciando da parte un momento la questione fake news, bufale, eccetera, per me la Cina rappresenta il peggio di quello che potrebbe succedere se non vengono gestiti bene gli strumenti della tecnologia di oggi. Cioè in Cina tu hai l'equivalente di Facebook che ti dà un voto sociale. Se tu scendi di categoria nel voto sociale non usi mezzi pubblici, non puoi accedere a certi luoghi. Se qualcuno di voi ha visto Black Mirror, esatto, non è più fantascienza. Quindi il caso della Cina secondo me è emblematico, perché, allora, per rispondere alla prima parte alla domanda, no, non credo che un debunker come me potrebbe vivere in Cina, perché prima o poi si scontrerebbe con la necessità di smentire delle notizie di propaganda fatte dal governo. E il governo cinese non è particolarmente morbido e tenero con chi non segue la sua linea politica. L'altra cosa che secondo me è preoccupante è che la Cina sta utilizzando gli strumenti di controllo della popolazione offerti dalla tecnologia e questo tipo di controllo si sta propagando anche da noi. Se voi comprate un telefonino fatto in Cina, se è uno di quelli fatti per il mercato cinese, importato magari da qualche amico che ve l'ha portato a casa per pochi soldi, molto spesso all'interno di questi telefonini ci sono dei software di monitoraggio, per cui quello che fate, quello che dite può essere raccolto. Questa è normale in paesi come la Cina, non è normale in un governo, in un paese democratico. Quindi no, non credo che potrei vivere serenamente in Cina e spero che la Cina non venga a vivere serenamente da me. Sono delle ottime domande, vero? Assolutamente, sì sì. Pubblico attento. Ancora qualcuno? Ecco, grandi, che bello quando non c'è neanche un'esitazione. Un commento a caldo su quello che è avvenuto in questi giorni riguardo a Facebook, all'attenzione del congresso nei confronti di Facebook, non sembra che si stiano focalizzando tanto sulla parte delle fake news, ma più che altro sulla privacy in quel caso. Però può avere anche dei risvolti in questo senso? Ma allora, il problema adesso con Facebook, allora il primo commento a caldo è, ve l'avevo detto. Perché sono anni che io e tanti colleghi diciamo, attenzione, Facebook sta acquisendo un potere troppo grande, Facebook sta raccogliendo troppi dati su di noi, Facebook sta organizzando questi dati in modo da massimizzare la schedatura individuale di ogni cittadino del pianeta. È preoccupante, è un concorrente dell'NSA a questo punto. The Onion, il sito satirico americano, fece un articolo in cui diceva che l'NSA ha consegnato, anzi la CIA ha consegnato la medaglia al valore civile a Facebook, a Mark Zuckerberg, perché gli ha fatto rispondere una sacco di soldi. Invece di dover indagare noi, hai già messo tu cittadino tutto online. Allora, in questo momento ci stiamo occupando del problema di privacy, perché quello che è emerso è che i dati che noi abbiamo riversato in Facebook e i dati che Facebook è andato a prendersi, perché teniamo presente che esistono i cosiddetti shadow profiles, cioè i profili delle persone che non sono iscritte a Facebook, ma che Facebook comunque considera. Se siete utenti di Facebook o digitate, ogni tanto viene fuori la proposta persone che potreste conoscere. Magari fra quelle persone ci sono delle persone che non sono, che conoscete, ma che non sono iscritte a Facebook. Come fanno a sapere che ci conoscono? Perché hanno attinto a qualche altra fonte. Quindi esistono questi profili ombra delle persone. E questo significa un accentramento di potere preoccupante. Quindi per ora la questione è principalmente privacy. Però la privacy e l'intrusività di Facebook e di Instagram e WhatsApp, che fanno parte della stessa società, sono di proprietà entrambe di Facebook, questa intrusività è talmente forte da diventare poi un problema di fake news. Primo perché Facebook, essendo così popolare, promuove le notizie in base ai suoi algoritmi e quindi alimenta il mercato delle fake news. Secondo perché se io ho una schedatura delle opinioni politiche, dell'ideologia, delle affiliazioni religiose, degli orientamenti sessuali, delle abitudini di salute, delle abitudini dietetiche, delle abitudini di acquisto delle persone, conosco i loro redditi, conosco le loro arriti di amicizie, posso fare un'operazione di manipolazione dell'opinione. Questo è il grosso problema di Cambridge Analytica, che non si sa se sia riuscita realmente a spostare i dati, però ci ha provato, ci ha provato seriamente prendendo i dati di milioni, di decine di milioni di persone. Quindi sì, i due problemi viaggiano insieme. Se un'associazione, un'organizzazione ha a disposizione così tanti dati personali su ciascuno di noi, quei dati possono essere usati non solo per bombardarci di pubblicità mirata, scarpe, tacco 12 o viaggio in Thailandia, ma anche per veicolare un messaggio politico. La preoccupazione che è stata espressa molti anni fa è proprio questa. Se io so che una certa persona che vive in una certa località ha un certo orientamento politico, gli manderò un messaggio fatto su misura per lui o per lei. A quello che vive in una zona dove ci sono tanti furti, tanti delitti, manderò il messaggio che è importante avere delle armi, il diritto di essere armati. Negli Stati Uniti questo è un argomento fortissimo. Una persona che invece è più incerta, manderò un messaggio più blando, ma comunque riuscirò a mandare un messaggio personalizzato efficace. Quindi alla fine da questo si arriva sia al controllo politico attraverso la violazione della privacy. Due curiosità. La prima è per ogni click su una bufala. Quanti click sulla controindicazione è che la notizia era corretta. Ci sono, qual è il rapporto. E la seconda domanda era questa. Sulle fake news, quindi quelle fatte apposta per essere false. Se ho capito giusto, vero? Sì, giusto. immagino che siano fatte da professionisti, per cui non arrivano a farsi querelare. Però c'è un limite sul... esistono fake news per cui si può andare a un processo o a essere magari anche condannati? Paolo, aggiungo anche io questa cosa perché è una curiosità che ho per capire se il codice poi è penale, le reazioni e poi le sanzioni sono adeguatamente corrisposte. Dunque, allora, per la prima parte il rapporto fra click sulla notizia falsa e click sulla smentita o sul debunking... no, mi spiace, il rapporto è completamente sbilanciato. Tutti cliccano sulla notizia, anche perché il debunking è complesso. È una notizia a volte noiosa, pedante, perché devi essere precisino, devi spiegare materiali, metodi e tutto quanto. Le rane gay esistono, funziona. Le rane gay esistono, quattro parole, lei già mi ha dato il messaggio. Dimostrami che non esistono. Ti faccio un trattato, ti faccio un paper, lo pubblico su Science, non lo legge nessuno. Per cui c'è questa asimmetria. È una guerra che si combatte con le due mani legate e a volte dovendo picchiettare sulla tastiera soltanto col naso, mentre gli altri hanno otto mani. Invece per quel che riguarda la seconda parte, sono molto perplesso su dove si possa andare, perché mi ripeto la domanda, scusi, non sono sicuro di averla capita correttamente, mi viene un dubbio. Sì, volevo sapere se le fake news qualche volta possono essere querelabili. Allora, no, perché è venuto in mente un caso un po' particolare. Il problema di internet è che è un organismo transnazionale. Quindi, se io ho dei ragazzi che stanno in Macedonia e pubblicano la notizia che il Papa ha approvato la candidatura di Trump, come faccio ad andarli a prendere? A parte il fatto che il Papa non è che dice, scusa, stanno dicendo delle stupidaggini su di me, valli a prendere, querella lì, diventa complicato, oltre che abbastanza ridicolo. Quindi c'è un problema di reato che supera le frontiere. La cosa che mi è venuta in mente è, sì, ci sono stati dei casi di fake news querelabili, perché è vero che molto spesso sono fabbricate da professionisti, ma fra i professionisti ci sono anche dei pasticcioni, ci sono delle persone che non sono molto esperte del settore e quindi sbagliano. E una serie di notizie particolari riguarda proprio la Presidente della Camera, Laura Boldrini, di cui sono stati inventati dei familiari, la sorella che percepisce uno stipendio a 10.000 euro al mese, la sorella è morta. E questa storia è stata inventata, secondo le indagini fatte, è stata inventata per scherzo, perché fa parte di un filone, si inventano dei finti parenti, di politici e poi si vede chi ci casca. A volte hanno dei nomi sfacciatamente inventati, non so, Teomondo Boldrini per esempio e via dicendo. E poi da lì nasce, lo scherzo non viene capito, viene preso per vero, c'è qualcuno che si indigna, nasce il movimento degli indignati e via dicendo. Questi sono correlabili e in alcuni casi, come nel caso della Presidente, è stata fatta un'azione legale per cercare di sanzionare le persone colpevoli di questa disinformazione. Il problema è che in molti casi se non c'è un danno reputazionale, non c'è uno strumento giuridico che consente di dire hai pubblicato una notizia falsa, pubblicare una notizia falsa non è reato. Se io dico che il sole sorge dalla parte sbagliata, sorge a ovest, dico una cosa falsa, ma non è che mi vengono a punire perché ho detto una cosa, il giornale che pubblica l'onda ghiacciato, l'aereo che viaggia non è che arriva la multa, magari cambierebbe il giornalismo. Si è deciso per ragione di democrazia che l'informazione deve essere libera e non deve avere questo vincolo di sanzione in caso di notizia falsa, anche perché poi ci sarebbe il problema di chi è che decide se una notizia è vera o falsa. Ok, finché siamo nel campo della scienza non c'è problema, siamo abbastanza tutti d'accordo, ma nel campo dell'ideologia, della politica, delle opinioni, vero o falso? Molto spesso le storie non sono così semplici come possono capitare nel mondo scientifico, ci sono tante sfumature, chi è che decide? In che tempi? Il caso di Butak è stato un caso molto particolare, nel senso che sequestro e poi nel giro di pochi giorni si è arrivato a un dissequestro, ma molto spesso queste querelle si trascinano per anni, allora in questo caso cosa si fa? Nel frattempo la notizia falsa continua a circolare, per cui siamo un po' disarmati da questo punto di vista, però anche qui ci aggiungo un pensiero di speranza, perché in realtà Facebook e Google hanno degli strumenti tecnologici che consentono di fare un tracciamento estremamente preciso del movimento delle notizie o delle immagini. Per ora questi strumenti sono stati utilizzati quasi esclusivamente per i casi di pedopornografia o per i casi più gravi di abuso sulle persone, però questi strumenti possono essere usati anche per fare il tracciamento delle immagini di altro tipo, quel meme da dove arriva, quell'immagine che è che l'ha pubblicata per prima, posso risalire e poi eventualmente rivalermi sulla persona. Se c'è stato un danno reputazionale posso fare una querela, avere eventualmente un risarcimento. Però è un'operazione complicata, complicata anche perché c'è di mezzo un sistema giudiziario che per sua natura è molto molto lento. Quindi internet corre e la giustizia la rincorre, non è facile. Però qualcosina si fa. Già il fatto di fare una denuncia pubblica di questi fenomeni, il fatto che si possa andare su internet a cercare la smentita è un passo avanti nella giusta direzione. Bene, andiamo verso la chiusura Paolo. Mi sembra di capire che il fattore fondamentale qui sia un po' anche quello culturale, in cui la formazione forse dei giovanissimi è determinante. Per esempio nelle scuole che cosa sta succedendo? Esiste l'ora digitale perché so, mi sono informato ma chissà se ho beccato l'informazione giusta a questo punto, in Scandinavia le scuole propongono l'ora digitale in cui c'è l'approfondimento dell'informazione, la pratica l'anetiquette, quindi un'etica giusto per l'approccio digitale e la ricerca dell'informazione. È così? Qui come ce l'accaviamo in Italia? Allora, male, fondamentalmente. Non dovevi lasciarci con un messaggio di pace e di speranza? No, la speranza c'è nel senso che il programma scolastico non fa, non include ancora e probabilmente non riuscirà mai a includere gli argomenti perché i tempi di produzione di un programma scolastico sono sempre più lenti rispetto alla corsa della tecnologia. Però noi tutti abbiamo in tasca uno smartphone, i nostri figli hanno in tasca uno smartphone che sanno usare, almeno superficialmente, non sempre sono molto competenti, ma almeno superficialmente lo sanno usare. Quindi hanno gli strumenti, è come se noi avessimo, ogni volta che abbiamo preso un telefono, è come se avessimo regalato loro la tessera di una biblioteca. Insegniamo loro non solo a chiacchierare con gli amici, ma anche a usare quella tessera di una biblioteca per scoprire come stanno le cose. Ci sono tanti progetti, spesso sostenuti dell'associazione di genitori, per esempio ne sto seguendo uno a Novara, dove si fa peer education. Cioè io o i miei colleghi andiamo nelle scuole, facciamo una lezione ai ragazzi e le ragazze del liceo che poi vanno a parlare con quelli delle medie, perché è importante, bisogna cominciare alle elementari adesso a fare difesa contro gli abusi che possono capitare nel mondo digitale. Quindi sì, qualcosa si sta facendo ed è bello vedere, a me capita spesso, ti racconto brevemente una cosa, ogni tanto vado a fare lezioni di sicurezza digitale e faccio vedere come si fanno vedere le foto nascoste di Facebook o di Instagram, come si rivelano e c'è sempre qualche ragazzo, molto spesso sono ragazze che sbianca e poi alla fine della lezione viene scusi, è per un'amica, ma come si fa a togliere queste cose? E allora lì capita l'occasione. Quell'uccichio di paura ma di interesse è secondo me, preoccupazione ma è la speranza, quella persona sarà motivata a capire come funziona veramente internet, lo racconterà agli amici e alle amiche, da lì si comincia. Questa è la peer education e questa quindi è la mia speranza. Allora Paolo, noi speriamo di averti anche nelle nostre scuole trentine, se non ci sono altre domande io andrei verso la chiusura di questa bella serata dandovi l'appuntamento anche per domani in cui ci sarà Francesca Gelfi che tra l'altro ci parlerà di fake news anche nell'ambito alimentare, molto delicato. Ghiotto. Ghiotto devo dire, qualche aneddoto ce l'hai su questo tema? Un po' ce ne hai parlato prima però. Sì, torno da un convegno che si è tenuto a Roma, il convegno nazionale di medicina e pseudoscienza, dove abbiamo parlato, c'era anche Piero Angela, Silvio Garattini, Roberto Purioni e tanti altri esperti ed esperti del settore, dove abbiamo parlato dei miti della cucina, allora la cucina è la dieta mediaranea, sacrosanta, non si tocca eccetera, però alcune cose sono sfacciatamente commerciali, per esempio un chimico è venuto a spiegarci in dettaglio la differenza fra il sale dell'Himalaya e il sale che compriamo al negozio, nessuna. Uno viene dall'Himalaya, si è fatto 8 mila chilometri per arrivare qua, è rosa, che è tanto carino, ma la molecola è quella, sala uguale, forse ha una leggera punta di sapore differente ma sono le impurezze che cambiano. Però è molto figo il sale rosa. È fighissimo. E dello zucchero di canna cosa mi dici? Stesso discorso, lì bisogna guardare la chimica, la chimica indica che gli zuccheri pregiati, il demerara per esempio, è zucchero di canna che viene da una zona che si chiama demerara, è come se noi avessimo lo zucchero di canna di busto arsizio. Bellissimo. Preciatissimo. In Cina va a ruba questa cosa esotica. Poi mi immagino già l'etichetta con questi busti di busto arsizio. Molto bello. Ha un futuro. Sì. Comunicazione. No, questo è importante perché io di solito per fare la prova del 9 sminuzzo il... Bella storia. La... come si chiama? Lo zucchero di canna e dentro è bianco. E dentro è bianco. È una fregatura, l'hanno caramellato fuori. No. Questa è stata proprio una delle dimostrazioni che è stata fatta. Chimicamente il problema è semplicemente che se tu lo sminuzzi il cubetto, o meglio il granello, diventa più piccolo e quindi la luce fa un percorso diverso al suo interno. Quindi l'assorbimento dei colori della luce è diverso. Cioè il granello grande assorbe diversamente per cui rimane soltanto il colore classico caramellato dello zucchero di canna, ma quando lo fai diventare più piccolo la luce, tutta la luce anche, tutti i colori della luce vengono ripresi, ritrasmessi e quindi abbiamo la percezione del bianco. Quindi mi stai dicendo che quello che io mi lantavo come una cosa strafiga, vi faccio vedere io come... in realtà è vero. Sì, è un fenomeno reale, ma la spiegazione... Sono un dimugliatore di fake news io. Sei il nuovo Piero Angela. La sedizione. Vabbè, grazie. Grazie, Paolo, per la tua gentilissima e preziosa e simpatica presenza. Sappiamo che sei anche un amante della birra, perché sul tweet... Moltissimo, sì, sì, infatti. ...qualcosa del genere. Quindi ora andiamo tutti a berci qualcosa, che sono convinto che riusciremo a fare il secondo round di domande e altre cose. Volentieri. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.